Casa di Thanos, casa di Baldi, oppure casa di Granny Dentro una di queste case c'è un tesoro incredibile E dobbiamo scegliere la casa giusta fra queste tre Scegliamo la casa, non lo so Amparapaci, cicocco, tre scemi ci sono sul comò Scelgo, scelgo quella di Granny, vai da Anzi, Baldi, scegliamo quella di Baldi Così ci togliamo la matematica dalle scatole Perché secondo me qua, oh mamma ragazzi, è tutta quanta lava E c'è uno dei posti più noiosi del mondo La lavagna, ecco, dove nessuno vuole andare Oh, aspetta, 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 ok Mi sa che dobbiamo saltare su queste sedie, così E dobbiamo andare di là, certo, dove ci sono quei poster Ok, quindi, se noi saltiamo qui Oh, 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 ok, scotta, scotta, scotta Salta qua, qua, perfetto, non cadere, non cadere, non cadere Salta qui, beh, ok Vediamo se negli armadietti c'è qualcosa di interessante Perché in genere qualche studente si può scordare qualcosa di utile Saltiamo qui sopra, ok, no, non c'è niente Qui dentro, no, andiamo qua Qua sopra invece c'è qualcosa, ok, non c'è Perfetto, saltiamo qua sopra Non cadere nella lava Ecco, sulla lava incandescente Ok, vai qua, perfetto Oh, no, no, scotta, scotta, scotta Allora, ma qua, come facciamo a superare questo passaggio? Cioè, dovremmo andare su questa roba marrone Che non è lava Oh, no, 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 no Eh, ma come diamo lo facciamo a passare da qui all'altra parte? Cioè, ci deve essere un modo Oh, mamma, là fuori ci sta un cavallo Vabbè, ciao cavallo Non lo so, aspetta Ah, ecco c'è una finestra lì Dobbiamo attraversare la finestra Ah, ma perfetto Potete dimmelo prima Perché no, in realtà Sennò io ho stupito Ceccato che non l'avevo vista Ecco, aspetta, salta qua Ok, ragazzi Dietro questa finestra Ci potrebbe essere di tutto Ok, tre Due Uno Vai, secondo me ci sta Baldi Adesso qua di dove forza Si è la casa di Baldi E infatti, eccolo Ah, Baldi Fatti sotto Scendi, scendi Codardo che non sei altro Ah, paura Paura, paura Vedete, vedete Non scende, non scende Tutto quanto terrorizzato Dalla nostra presenza No, in realtà forse no Ah, no, no Scherzo, scherzo, scherzo Mamma mia Quanto cavolo Fa male sta mazza Ah, ah, ah Sai che facciamo? Lo buttiamo nella lava Sì, è un piano geniale Lo buttiamo qua dentro E il piccolo Baldi Si fa il bagno Nelle, nelle terme Ecco, ecco Vai Sì, sì Bello, bello Oh, ma perché non va a fuoco? È immune alla lava Ma che cavolo Oh, oh Oh, no Mi sta facendo malissimo Guardate Non si fa niente Non si fa niente E la lava Meno male che avevamo la mila d'oro Eh Che senso la mila d'oro? Perché vediamo come cavolo Gli la facciamo Prendi questo Che cazzo Altro Prendi questo 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 Sopra Sopra Il culetto Sopra qui Sopra Il pepino Sopra qua Ecco qua Prendi questo Ma ragazzi Ma ragazzi Stai ancora a me Da vita Ma tu veramente Vuoi Vuoi la guerra Vuoi la guerrona Yeah Asalto Salto mitico Qua Dai che l'abbiamo quasi sconfitto Manca poco Oh Eh che cavolaccio Cavolfiore Cavoletti Bruxelles Oh no 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 Non morirò Non morirò Tu morirai Capito Tu 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 Ecco fatto Perfetto No no Stiamo per morire Stiamo per morire Non morire Non morire Ragazzi E' mancato pochissimo Perfetto Adesso che Baldi è morto Oh madonna Che riga Che rigona Che è questa Che è finito dentro il muro Bene Adesso Oh qua si rompe 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 Ecco Un passaggio segreto Ah siamo tornati a punto di partenza Dobbiamo scegliere un'altra casa Scegliamola Quella di Baldi Abbiamo detto di no C'è quella di Granny Che mi fa accambodare la pelle E c'è quella di Thanos Che fa ancora più accambodare la pelle Rispetto a Baldi e Granny Non lo so Vabbè io direi di andare da Granny Perché in genere Quella scema Ti rascosta un sacco di segreti Ecco Eccoci La casa di Granny Uno dei posti più spaventosi Dell'intero universo Oh madonna No qui Eccolo Libro libro Trova in cucina una chiave Che ti aprirà una porta al piano di sopra Dopodiché in quella stanza troverai qualcosa Ah ecco Ecco Dobbiamo entrare qua dentro E là ci sono i tesori Ok raga però ho paura Ho paura C'è Granny in giro C'è Granny in giro No io prendo la spada Perché quella è potentissima Ok dobbiamo cercare Vedete se ci resta una carta La carta deve essere in giro da queste parti Oh madonna ragazzi Non so dove sia Granny Ma c'ho una paura C'è anche un ragnone Controlliamo al piano di sopra Aspettiamo qua No non c'è niente Al piano di sopra c'è qualcosa Qui No Qui c'è qualcosa AAAAAH Oh AAAAAH 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 No Mamma mia che cagarella AAAAAH Ragazzi Aiuto No Ci ha visti Ci ha visti Ci ha visti Sta bene Oh madonna Sei andata OOOH Stati SCEMA Sei scema OOOH No 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 Che O capsina Ok Non sto mollendo la stacu Oh ok Chiave 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 Qua dentro La chiave Ma che cavolo idiota Mette la chiave nel frigorifero O pera Non ti temo nessuno Nessuno idiota Mette la chiave nel frigorifero Ragazzi Stiamo stancando È meglio che mangiava un po' di pane Perché se no non riusciamo a correre E perché questa qua Mi sta anche scassato di botte Quanti danni ci fa Oh porca palettina Porca palettissima No 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 Ok Ok abbiamo trovato la chiave Adesso che abbiamo trovato la chiave Se ve la porta La porta Eh madonna Ma levati dalle scatole tu La porta sta da queste Sta qua sopra la porta Qua sopra Qua sopra Qua sopra la porta Ah Apri Apri sta cosa Oddio ma non c'è niente qua dentro Ma madonna Meno male che sei rinchiusa qua fuori Meno male che sta Eh ciao scema Non vuoi entrare Non vuoi entrare Non vuoi entrare Eh ma serve un codice E non c'è Che cavolo ce l'ha sto codice Non c'è nessuno Madonna esci Mica c'è sta sta qua fuori Non c'è nessuno Vero no Non c'è nessuno Eh Ok Ci vediamo se sta qui Eccolo Non ci credo Aspetta non ci ha visti Madonna ragazzi Non voglio finire con il collo qua dentro Non so voi Eh E te devo dire Che E adesso Ce ne andiamo Eh Ehi Dimmi che sono qua i diamanti Dimmi che sono qua dentro i diamantissimi Eh Il codice è 1 2 3 4 5 Madonna ci potevo anche arrivare prima 1 2 3 4 5 Eccolo qui Perfetto Abbiamo una card E con questa card adesso possiamo uscire dalla casa di Granny credo Ok Ok Dov'è l'uscita L'uscita Eccola 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 Addio Scema Ci vediamo Non ci sono i diamanti Vabbè Non era manco quella la casa giusta E allora la casa giusta E questa qua Di Thanos In tutta la sua Il tutto il suo splendore dorato Dobbiamo rubargli le gemme dal guanto Così quello si incavola Allora Vandiamo 3 2 1 Ah ma ragazzi aspetta C'è l'armatura qui C'è un nether blaster Ma stai scherzando Io me ne stavo andando come un idiota Senza prendere Questa roba Mamma mia Raga che abbiamo Exo sweet leggings Ecco Exo sweet Boom Questi qua Questa armatura Ci fa sfare I salti in aria Come non avete proprio idea Mamma mia Che figli che siamo Ehi baby Ti fa Devi dire a freddere E fare qualcosa con noi Bene Adesso Bene Thanos Dove sei? Deve essere per forza Da queste parti Ma io Non lo vedo Vediamo un po' De sta qui Thanos Thanos Bel Thanosone Dove sei? Non c'è Oh mio Dio Ma quanto È grosso Ok Noi dobbiamo sconfiggere qualcosa Siete pazzi Vero? Ma siete pazzi Come cavolo facciamo a sconfiggerlo? Se noi ci infiltriamo qua sotto Piano 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 E vediamo il suo bel sedere Mamma mia Mamma mia che sederone che ha È proprio bello È bellissimo E adesso Il bel sederino di Thanos L'affettiamo Vieni qua Oh No raga Ma quante vita Non dobbiamo utilizzare il nether blaster Mannaggia Alla Oh Qua non ci piglia Ma qua non ci prende Qua non ci può prendere Sei troppo grosso Sei troppo grosso Mangi troppe Mangi troppa pizza Mangi troppa pizza Troppe schifezze Ecco Ti spariamo sul pipino Ti spariamo sul pancino Ti spariamo sul guantino Oh 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 È arrabbiatone Il grosso Thanos È diventato viola della rabbia Ah peccato che lui è già viola Aspettate che Utilizziamo tutte le armi che abbiamo Per farlo Arrosso Nella parte che tutti voi conoscete Ecco Papà Qui sì Oh Gli sono cresciuti i baffi Gli sono cresciuti i baffoni per la rabbia Guardate Gli sono cresciuti i baffoni Ecco ancora qua Oh no no Aspetta si è scaricato Ma adesso utilizziamo il nether blaster Ecco in questo qua Ce l'arrostiamo pervenone Ma che impazzito Sta andando avanti e dietro Come una salsiccia Ecco aspetta Ecco Tieni Tieni Papà Papà Oh ma che già è figlio il nether blaster Vabbè Utilizziamo il sonic rifle Stiamo utilizzando tutte le armi che abbiamo Per sconfiggere E prima o poi dovrà Ecco È morto Thanos È morto Thanos È morto Adesso dobbiamo salvare il mondo Dove sono i diamanti E per salvare il mondo Intendo i diamanti I diamanti Devono essere stati nascosti Lì I diamanti Siamo ricchi Siamo ricchissimi Perfetto Adesso Li possiamo tutti quanti Portare Alla nostra base Tramite il nostro Bellissimo Jet Privato Ecco Per salire sul jet Privato Basta entrare da dietro Ah 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 Il mondo è nostro Perfetto Mettiamo i diamanti qua dentro Tutte le armi qui E possiamo anche goderci la vita Bene Mettete like Se volete un altro episodio Delle case E commentate Quale case vorreste vedere Nel prossimo episodio Io sono Vittorio E vi do un bel bacino Ciao a tutti Ciao a tutti